Torre Annunziale, la nostra pagina Madonna della Neve, presente su Facebook, Instagram, su YouTube e qui ci ha trovato. Stasera vogliamo soltanto annunciarvi che prossimamente entro il 5 agosto, dato che non ci sarà la rievocazione storica, purtroppo causa questo periodo un po' particolare, stiamo lavorando una sorpresina, poi magari con calma la vediamo. Torre Annunziale, è sempre più bella, fondata dai Fenici, insieme a Pompei e Nola, poi è diventata greca, poi è diventata romana, poi è diventata latina, con il nome di Oplon, Poplon, eccetera eccetera, poi un certo periodo già a Chinobili, adesso Torre Annunziata, già da parecchi, in occasione della cappella dell'Annunziale che si fece costruire, vabbè ma poi ne parliamo con calma. Nel frattempo ci vediamo per il 5 agosto. L'omeriggio quasi inoltrato, 18, 30, 19, così come aspettavate la rievocazione, aspettarete anche loro, ma non vi po', d'accordo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.